Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Fuggi il peccato. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Il disonore dell'uomo è quello di commettere molti peccati e cattive opere. Molta gente gira per strada con maleducazione, con cattiveria, compiendo opere sgradevoli e quindi vive questa vita così, alla rinfusa. Bisognerebbe fuggire sempre il peccato mortale perché offre solamente una situazione inclemente e situazioni strane. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Fuggi il peccato. Il disonore dell'uomo è quello di essere un peccato rincallito che offre solo cattive opere. Bisognerebbe fuggire sempre il peccato mortale che offre solamente la triste situazione inclemente. Bisognerebbe fuggire sempre le situazioni strane che potrebbero portare a pecare insensatamente. Fuggi il peccato, ama la vita, sarai ricco di giovamento e di tanta fede infinita. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.